Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Riccardo Mosciatti, sono owner e trainer presso Buma IE Fitness, la palestra di Chivasso. Se volete scoprire qualcosa in più della mia storia e di come nasce la mia passione, che è diventata poi anche la mia professione, acquistate la versione cartacea della voce il martedì 24 novembre in edicola oppure andate online per acquistare l'articolo.